di pescara sono tante tante cose che c'è il mare come a casa mia pescara c'è anche vicino alla montagna e dopo soprattutto una cosa che andavo matto io di pescara gli arrosticini che ogni tanto di francesco come andavo su col peso mi metteva le multe per colpa degli arrosticini ragazzi miei avete una grandissima cucina scherzi a parte stato ho passato due anni fantastici quando mi hanno detto dove andare via non ci volevo credere perché dicevo che era un sogno e quindi ho lasciato un pezzo di cuore lì è stato benissimo e il mio augurio ai tifosi del pescara è quello di uscire da questa brutta situazione di classifica e di sperare di vederla magari in un derby di nuovo per me è un derby salinità una pescara tutti e due in serie a questo è l'augurio che faccio ai pescaresi è l'augurio che faccia la curva nord i miei amici dei ranger tutti i grandi ragazzi e conosciuto che ero un ragazzino ancora questa è l'augurio che faccio a tutta pescara insomma a a a a a a a